Vediamo adesso il moto rettilineo uniformemente accelerato. Innanzitutto si parla di moto accelerato ogni volta che cambia la velocità. Infatti per definizione l'accelerazione di un oggetto è di quanto cambia la velocità delta V in quanto tempo. Se poi la velocità cambia, per esempio aumenta con un tasso di crescita costante nel tempo, quindi ogni secondo aumenta sempre della stessa quantità, allora si parla di moto rettilineo uniformemente accelerato. Qui abbiamo due esempi, un motorino che parte da fermo e non da citano e un oggetto che viene lasciato cadere anche lui da fermo e acquista velocità mentre cade. Allo stesso modo il motorino acquista velocità come si vede a un ritmo di crescita costante. Infatti qui attenzione che è riportata la velocità e non lo spazio percorso. Quindi al passare del tempo, 1, 2, 3, 4, 5 secondi, questa colonna non vuol dire che il motorino percorre mezzo metro, poi un metro, un metro e mezzo, perché non è la posizione che è riportata qui, ma la velocità vuol dire che guardando il tachimetro del motorino, cioè la lancetta che indica la velocità, questa lancetta si sposta e indica una velocità che cresce a ritmo costante. Infatti vediamo che ogni secondo che passa, la velocità del motorino aumenta di mezzo metro al secondo, 0, 0, 5, 1. La velocità invece di un oggetto che cade, già sappiamo, aumenta di 9,8 metri al secondo ogni secondo che passa. Quindi secondo la definizione di accelerazione, in questi due esempi abbiamo che il motorino accelera aumentando la velocità di mezzo metro al secondo ogni secondo che passa. variazione di velocità fratto il tempo. Invece l'oggetto che cade aumenta la velocità di 9,8 metri al secondo ogni secondo che passa. Quindi l'accelerazione è mezzo metro al secondo quadrato oppure 9,8 metri al secondo quadrato. Qui è spiegato appunto il significato di uniformemente, che l'aumento di velocità, o anche la diminuzione nel caso in cui la velocità diminuisca, avviene con un tasso di crescita costante. Infatti vediamo qui ogni secondo che passa l'aumento di velocità è sempre uguale. Qui è mezzo metro al secondo e qui è 9,8 metri al secondo ogni secondo che passa. Ogni secondo c'è lo stesso aumento delta V. Il motorino accelera meno l'oggetto che cade di più perché a parità di tempo, quindi ogni secondo, l'aumento di velocità dell'oggetto che cade è più grande. Delta V è 9,8 metri al secondo, il motorino è solo 0,5. Come anche nel moto rettilineo uniforme, la formula in quel caso era velocità uguale spazio percorso sul tempo impiegato, però questa formula può essere scritta anche in modo diverso. Quindi al posto di delta V scriviamo V-V0 che sta a indicare questa situazione qua, cioè un oggetto che all'inizio sta in posizione iniziale S0 e sta viaggiando in quel momento con una velocità istantanea V0. Qui bisogna chiamarla istantanea perché, siccome il motorino non è uniforme ma è accelerato, questa velocità cambia, quindi bisogna distinguere istante per istante, bisogna dire qual è questa velocità. Dopo un certo tempo, dopo che è passato un tempo delta T, l'oggetto si trova in B, ha percorso un certo tratto di strada, delta S, la sua posizione finale sarà S e adesso la sua velocità è diversa, per esempio è più grande se il moto è accelerato oppure se fosse frenato la velocità sarebbe più piccola. Quindi questa è la velocità finale, invece V0 è la velocità iniziale. Allora, delta V è V-V0, velocità finale meno iniziale. Ricaviamo la velocità finale e con la formula inversa troviamo velocità finale uguale a velocità iniziale più A per delta T. Questa non è una formula diversa dalla prima, è la stessa scritta in modo diverso, solo che mentre la prima formulazione, la prima espressione, è utile per calcolare l'accelerazione di un oggetto e infatti l'abbiamo usata prima per calcolare per esempio l'accelerazione del motorino o dell'oggetto che cade. È utile per calcolare l'accelerazione perché basta fare di quanto è cambiata la velocità in quanto tempo. Invece quest'altra, chiamata legge oraria della velocità, è più pratica per calcolare quale sarà la velocità finale dell'oggetto, quindi questa qui, conoscendo la velocità iniziale, la velocità che aveva l'oggetto all'inizio, conoscendo l'accelerazione e conoscendo quanto tempo è trascorso. Tra poco vediamo un esempio numerico di applicazione di questa formula. Intanto notiamo che questa formula contiene il motorettilino uniforme come caso particolare. Infatti nel motorettilino uniforme non c'è accelerazione e non c'è l'accelerazione perché l'accelerazione è la variazione di velocità nel tempo, ma nel motorettilino uniforme non c'è la variazione di velocità, la velocità è costante, quindi non c'è delta V e quindi se non c'è delta V non c'è accelerazione A uguale a 0 diviso delta T. Quindi senza accelerazione questa formula perde questo pezzo e quindi rimane V uguale V0. V uguale V0 vuol dire che la velocità finale è uguale a quella iniziale, quindi il moto è uniforme. quindi vediamo che il moto rettilineo uniforme si ottiene come caso particolare del moto rettilineo uniformemente accelerato quando vi poniamo A uguale a 0. In altre parole quindi le formule del moto rettilineo uniformemente accelerato, questa formula e questa, contengono come caso particolare il moto rettilineo uniforme che si ottiene quando A è uguale a 0. Attenzione a non commettere il frequente errore che fanno gli studenti, cioè accelerazione uguale velocità fratto tempo. Se veramente fosse questa la formula, noi avremmo che un moto rettilineo uniforme dove l'oggetto viaggia per esempio a 10 metri al secondo, costanti, avrebbe accelerazione perché velocità fratto tempo non fa 0. Quindi questa formula è sbagliata, altrimenti nel moto rettilineo uniforme, siccome c'è la velocità e si mantiene costante, il moto rettilineo uniforme sarebbe un modo accelerato, invece non lo è. Infatti qui non ci va V, ma ci va ΔV, quindi un oggetto che si muove a velocità costante non ha ΔV, non ha variazione di velocità.